Far capire che questa società non è contro la squadra di calcio, ma deve far rispettare il piano e i costi. Costi e ricavi. Quindi questo è il nostro obiettivo. Siamo arrivati a produrre tante versioni di PEF, l'ultima della quale, naturalmente come è stata proposta, anche di dare alla squadra il campo di calcio a zero, naturalmente rivedendo la concessione con quelli che saranno i numeri conseguenti. Quindi da parte nostra c'è tutta la volontà per trovare un accordo. Il Presidente D'Antonio questa cosa la sa ed è rimasto molto entusiasta. Mi chiede, di chi non c'è la volontà allora? Chi è che non ha la volontà? I soggetti sono due, il concessionario e l'amministrazione comunale. Io la voglio fare, l'altro se non la fa, quando ci si sposa, ci si sposa in due. È fallita definitivamente la transazione? È fallita definitivamente? Allora, nessuna transazione è fallita. Si è dato il via all'arbitrato che noi dovevamo avviare l'anno scorso e che l'amministrazione comunale ci ha chiesto più volte di sospendere per trovare un accordo. L'abbiamo fatto in tanti modi, boh basta, perché ogni volta c'è sempre questo spostare la palla in avanti e a me sembra una presa in giro. Lei ha anche parlato del fatto dell'ipotesi, magari di sconfitta a questo lodo, di essere disposto a restituire la concessione previa o rimborso. È certo, ma lo prevede la legge, non è che è un doubt des. Cioè io te lo ridò e tu mi ripaghi i costi sostenuti, sta tutto scritto. Ha anche parlato delle minacce di morte che ha ricevuto negli ultimi giorni e ha ripercorso gli ultimi mesi della storia della mancata iscrizione del termocalcio. Sì, infatti questa conferenza stampa serve proprio a chiarire a qualcuno che forse non ha ben capito che la responsabilità non è mia, perché io non è che voglio tenere lo stadio, io lo stadio lo tengo perché ho una concessione che ho pagato e deve essere remunerata. Stiamo cercando di trovare una soluzione, io ce la metto tutta. Sono arrivato a offrirlo a 60 mila euro ufficialmente e siamo disposti anche a offrirlo a zero, naturalmente rivedendo la concessione dello stadio e il resto. Cioè la squadra di calcio parla qui, vieni a giocare senza pagare, vieni a disputare le sole partite all'interno dello stadio e senza pagare nulla. Poi, a parte i costi vivi che sono sempre stati, quindi luce, acqua, gas, pulizia, eccetera, eccetera. Questa conferenza è anche un segno di apertura dell'ingegnere Franco Iacchini alla città? Allora, io sono sempre stato aperto alla città, ma io non devo fare, io voglio solo chiarire, ribadire i fatti, perché la gente pensa che io non voglio dare lo stadio a costi, diciamo, nulli. Io sono disponibile a dare lo stadio anche a zero a fronte della revisione della concessione. Se si rivede la concessione, e i termini escono da un calcolo puramente matematico e non da un giochiamo a 3-7, si fa quello. Per me si può anche dare a zero, l'abbiamo trovata, l'ipotesi poi dopo. È stata aperta negli ultimi giorni anche una procedura di crisi aziendale per la Terramo Calcio? Non lo so perché non sono più socio della Terramo Calcio. Ah, ok. Non ho più le quote. Non ho più le quote della Terramo Calcio. Una scuola femminile? Cioè una squadra femminile? Ma io non sono più amministratore del 2021, non sono più socio, quindi come faccio a sapere certe cose? È dispiaciuto, visto tutto quello che è successo in questi ultimi anni? Beh, secondo te io penso di sì, perché penso di aver dato, a parte tanti soldi, tanto tempo, che avrei potuto investire in tante altre attività, ho tolto tanta serenità alla mia famiglia, come qualcuno qui sa benissimo, anche per precedente vita vissuta, e penso che io da parte mia non mi devo, come dire, non mi accuso di nulla, ma anzi, penso di aver dato tanto, troppo forse. Però non la rifarebbe. Ma neanche se mi pagassero, mi buttassero un cannone sulla testa, ma neanche morto. E questa non è un'offesa contro i tifosi, questa è un'offesa contro questa amministrazione, perché ti fa assumere degli impegni a fronte di promesse che si vedeva, si sarebbe rivisto, fatto, ma più che altro per un discorso di sviluppo, perché io sono stato molto interessato allo sviluppo, sia del calcio che dell'infrastruttura stadio, perché questo è un bene della città che deve essere valorizzato, perché noi abbiamo un gioiello che ce lo invidiano tutti e potrebbe diventare un punto attrattivo per la città, perché fare concerti da 20-25 mila persone ogni estate, noi abbiamo fatto un'analisi di marketing, questo bacino territoriale della costa adriatica d'estate raggiunge 7 milioni di abitanti, 7 milioni di abitanti, quindi portare qui 4, 5, 6 elementi di attiro, vuol dire portare a Teramo 120-130, 200 mila persone ogni estate a vivere la città, perché venire a un concerto si parla di Teramo, quindi non abbiamo concorrenza lungo la stadio Adrià, perché gli altri stadi sono a carattere comunale, non c'è l'imprenditore che lo sfrutta come il modello di concessione deve essere fatto, quindi abbiamo questa possibilità, ma perché non la rendiamo attrattiva questa città, anche attraverso questa cosa, oltre a fare tutte le varie giuste, belle manifestazioni nel centro cittadino, ma usciamo anche questo, se si fosse fatto qui il concerto di, come si dice, l'ultimo, De Gregori e Benditti, io penso che questo stadio sarebbe stato pieno, Zeppo, perché la richiesta era elevatissima. E tra virgolette, anche se Iachini accusato di non essere un uomo di calcio, ma si sarebbe comunque appassionato? Ma certo, adesso purtroppo vengo ancora a vedere partite con il Monterose, perché mi piace vederle, quindi il calcio è una droga, lo so che fa male, bisogna cercare di controllarsi, c'è chi poi dopo non si controlla, purtroppo va bene, però... Grazie a tutti.